Finché saremo in democrazia, nessuno mi chiuderà la bocca. Dimissioni irremovibili, quelle di Vincenzina Turiani, che ha deciso di uscire da Sinistra Unita. Una scelta, quella dell'ex candidata alle ultime elezioni regionali, con altre marche, Sinistra Unita, presa a causa delle divergenze nate per aver scritto questa frase sulla sua pagina Facebook. Prendendo la corriera per andare a Pesaro, ho notato che molti viaggiatori erano stranieri e tra loro molti neri. Nulla da dire se non che nessuno di loro ha fatto il biglietto. E ha concluso, ho notato che tutti avevano cellulari e tablet e allora chi è discriminato? Noi che siamo corretti o chi fa quello che vuole? Un'osservazione che evidentemente a qualcuno non è piaciuta, ma le polemiche e le critiche a Turiani non interessano. Il mio pensiero e le mie idee, ha detto, sono liberi e sacri, almeno per me. All'interno del mio partito non mi hanno certo sostenuto, hanno pensato che io sia razzista e che sia una che magari ce l'ho contro qualcuno, io non ce l'ho contro nessuno. Io ce l'ho solo con chi si comporta male. Volevo dichiarare una cosa che avevo vissuto e questa l'ho detta. E poi se mi giudicano per quella che non sono, e sono in mala fede perché io non sono così. Continuerà comunque a sostenere questa amministrazione comunale? Ah certo, soprattutto la stima va al sindaco, al vice sindaco, Seri e Marchegiani. Io sono qui e se qualcuno mi vuole sono qui, non cambierò certo partito, modo di pensare. Sono una donna di sinistra che sta in mezzo alla gente, è concreta. Farò quello che ho sempre fatto. Chiaramente non sono più con sinistra unita. Mi dispiace per gli anni di lavoro che abbiamo dedicato perché l'abbiamo creata contro tutto e contro tutti, però sono arrivate delle persone che invece di unire come dovrebbe fare la politica hanno disunito. E forse anche la dirigenza stessa, la segretaria stessa non è stata all'altezza perché con la vecchia segreteria questo non sarebbe mai successo. Troppe persone cantano e forse di politica non ne sanno niente. Forse acquistano dei voti perché vado via? Può darsi che ne perdono proprio perché vado via. Ma tutti sono utili e nessuno è indispensabile e io sono tra quelli. La mia dignità non si compra, la mia serietà non si compra. Io sono così, forse sarò eroente, forse sono impulsiva, ma non mi sembra di aver fatto un articolo o di aver pubblicato qualche cosa di così estremista. Ho soltanto messo in evidenza un fatto che era successo. E poi chi ci vuole giocare contro ci gioca, me frega niente. E poi chi ci vuole giocare contro ci gioca, me frega niente.